Il PDL ci mette la faccia e rassicura i pescaresi. Il PP2 sarà approvato entro metà giugno, altrimenti, dicono, l'amministrazione Mascia non avrà ragione di continuare a governare la città. Lorenzo Sospiri non nasconde qualche ritardo nell'approvazione del piano particolare Giatto 2 di Pescara che dovrebbe regolare l'urbanistica in una delle aree di maggior pregio, quella del porto. Sospiri non accetta però, così come tutto il suo partito, le provocazioni che arrivano dall'opposizione, che ieri si era detta preoccupata per l'avvicinarsi dei termini di scadenza del PP2, rilanciando la proposta dell'amministrazione d'Alfonso. Abbiamo chiaro come dovrà essere il waterfront di questa parte di Pescara, ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Antonelli, che ha ricordato anche come lo strumento normativo del PP2 sarà la cornice entro cui si dovranno muovere le iniziative private. Ci sono già alcune proposte progettuali, una è quella di Pescara Porto, per la quale non si è ancora chiusa l'istruttore e che comunque passerà alla valutazione del dirigente da Aurelio. Presto dunque ci sarà l'approvazione del PP2 in giunta, conforme al piano regolatore, anche in relazione alle volumetrie, il che non esclude però l'applicazione del decreto sviluppo ai progetti che saranno previsti in quell'area. C'è una possibile premialità, è chiaro che saranno presentati progetti ai sensi di quella legge dello Stato, che è una legge vigente, saranno valutati nel senso di verificarne la coerenza proprio con lo strumento legislativo. L'importante per quanto ci riguarda è che il tutto avvenga dentro la cornice urbanistica che andrà a definire il Comune, questo è il nostro obiettivo e questo accadrà. Dopodiché noi le leggi dello Stato siamo abituate a rispettarla, se c'è qualcuno che ha idee diverse, forse farebbe bene a cambiare mestiere. Io credo che si amministri in modo corretto quando si rispettano regole e leggi.